bella a tutti ragazzi sono la Mirko bentornati su gameplay chialele su age of empire 4 allora ragazzi proseguiamo con age of empire 4 con questo approfondimento da cui diciamo deciderò se appunto portare avanti questa serie e quindi le varie campagne che compongono appunto il gioco quindi mi raccomando ve lo dico già subito se volete continuare a vedere questo titolo portato sul canale sia sotto forma di video che sotto forma di live mi raccomando fatemelo sapere nei commenti lasciate un bel like così da farmi capire che appunto questa serie vi interessa come ho già detto nella live precedente io diciamo affronto age of empire per la prima volta perché non ho mai giocato nessun capitolo precedente di questa saga mi piacerebbe molto portarla avanti quindi mi raccomando se diciamo piace anche a voi questa idea fatemelo sapere quindi noi continuiamo la nostra la nostra campagna con i normanni ok ok allora control 0 9 per creare un gruppo nuovo di battaglia ok perfetto questo abbiamo fatto con gli arcieri ad arco lungo va bene questi sono arcieri sono arcieri ad arco lungo va bene va bene allora crea un gruppo solo con i tuoi lancieri quindi devo prendere allora i lancieri mettiamo il 2 perfetto così almeno abbiamo abbiamo tutti i lancieri perfetto quindi con control e il relativo numero diciamo facciamo i vari gruppi perfetto quindi qua facciamo con 1 ok con control 1 abbiamo abbiamo il gruppo dei nostri arcieri benissimo benissimo quindi 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 adesso dobbiamo andare a prendere bayou per cui io ho un esploratore si ne ho più di uno in realtà quindi iniziamo andare con l'esploratore allora mandiamo avanti l'esploratore ragazzi così vediamo un attimino se c'è gente qua allora ok qua inizia ad esserci un po' di gente per cui magari manderei gli arcieri qua ok questo inizia a distruggere da solo tira cose va bene allora ok loro iniziano a spaccare tutto va bene distruggiamo gli campi che tanto va benissimo ok mandate avanti allora mettiamo magari i lancieri qua davanti ok ok e agli arcieri esatto mettetevi così costruite la palizzata perfetto ok hanno fatto le palizzate così riescono a tenere molto di più la cavalleria che fa fatico ovviamente a passare qualcuno lo perderemo però va bene ok li abbiamo seccati tutti perfetto perfetto allora state qui gli inglesi si avvicinarono a bayou ok e capirono che le sue imponenti mura di pietra non sarebbero state abbattute da unità semplici eh no esatto quindi devo andare al villaggio nella foresta perché ho bisogno appunto di costruire un po' di cose soprattutto fare armi d'assedio e quant'altro allora fai una cosa gli arcieri me li metti qua così andate a tirare a questi perfetto anche i lancieri direi che andiamo ad attaccare questi via via l'esploratore che sennò qua te sfondano ok ma andiamo i lancieri ad attaccare questa torre così almeno vediamo di sfondarla almeno siamo a posto vattene vattene che sennò qua ti sfondano male vai 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 sfondate sfondate ok perfetto perfetto ok andate ad asseccare questi benissimo allora i nostri arcieri va bene li portiamo qua perché dobbiamo andare appunto verso il villaggio però io prenderei l'esploratore così intanto che loro distruggono tutto e fanno terra bruciata qua attorno io vedo magari di andare col nostro esploratore a capire che diamine c'è aspetta perché allora lancieri andatemi a distruggere queste intanto oh cacchio occhio 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 arcieri arcieri fate le palizzate fate le palizzate lancieri attaccate questi attaccate subito questi bravissimi ok buona perfetto perfetto ok stendetemi sta cavalleria e poi e poi andate ad attaccare questa basta basta andate ad attaccare questa così buttiamo giù sta torre perfetto io mi prendo tutti gli arcieri e intanto li vado a mettere qua ok la torre è crollata benissimo quindi gli arcieri me li posiziono intanto qua sopra ok così che almeno siano a posto perfetto guarda sti maledetti che mi tirano vai seccate sti due che mi hanno rotto già tre quarti oh dove cacchio andate lancieri che cacchio fate indietro tornate indietro sfondatemi queste intanto dai arcieri vedete di mettervi un attimo qua e tirate a questi se ce la facciamo perché se no sti arcieri mi stanno a rompe i ball perché mi stanno sfondando di botte quindi portiamo via i lancieri di qua perché se no me li seccano tutti perfetto vediamo se riesco a metterli qua gli arcieri ok a fargli tirare a questi tizi ok vediamo se riusciamo a fargli tirare a sti tizi almeno me li levo dalle balle anche loro e siamo a posto ok perfetto uno è andato dai seccatemeli tutti così siamo a posto ok dai un altro è morto e un altro è morto ok arcieri adesso venite qua e andiamo a sto punto a prendere questo villaggio dai dai forza e coraggio forza e coraggio che andiamo a prendere il villaggio abbiamo fatto anche la rima perfetto perfetto mettete oh cacchio 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 le palizzate le palizzate le palizzate le palizzate andate ad attaccare qua dai 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 veloci dai veloci ok arcieri attaccatemi loro ok benissimo benissimo oh così almeno abbiamo beccato il villaggio nella foresta e siamo a posto va bene allora abbiamo conquistato il villaggio quindi adesso il villaggio è nostro perfetto così allora io direi di sistemarmi un attimino le truppe terrei magari questi con la formazione a linea qua al centro esatto perfetto giusto per tenere un attimino a bada questa zona qua e qua teniamo per adesso i nostri arcieri allora allora dobbiamo costruire un fabbro quindi vediamo vediamo di andare a mettere il fabbro il fabbro dove beh lo potrei anche fare qua eventualmente si dai facciamolo qua il fabbro va allora facciamo qua un attimo il fabbro qua stanno lavorando allora come cibo ne abbiamo abbiamo anche un po' di oro si non abbiamo tantissimo io dovrei andare a prendermi però tra l'altro ah qua c'è l'esploratore che ancora sta distruggendo cose va bene va bene va bene allora io devo andarmi a prendere però l'oro e portarmeli ovviamente qua andiamo a prendere il re e gli altri due esploratori e portiamoli qua anche questo esploratore portiamolo magari qua perfetto allora il fabbro ce l'abbiamo ottimo così vediamo di fare tutto quanto benissimo ok va bene allora io farei fare intanto qualche altra casa in modo da diciamo aumentare un po' le varie cose aumentare i posti diciamo disponibili perfetto direi di fare anche questa ok e vediamo un attimino di magari io però qualche palizzata sinceramente qua la farei costruire dunque potrei fare eventualmente l'arsenale dovrei fare un po' di roba in realtà perché devo fare l'area di tiro con l'arco in modo da produrre anche arcieri perfetto usa fanteria per costruire arieti sì allora io intanto devo costruire qua il cancello perché se no di qua non usciamo più quindi per adesso facciamo un bel cancello qua e ok io devo capire qual è quello che mi sviluppa esploratore abitante viaggio già ce l'abbiamo arsenale arsenale io quasi quasi uno sull'arsenale lo farei senti mettimene uno qua eh devo fare mi sa un po' di torri qua eh devo fare un po' di torri perché se no è un problema dai attaccateli dai sfonda guarda che mi ha sfondato la palizzata sti maledetti vabbè però dovremmo in teoria averli uccisi tutti perfetto eh no no mettetevi qua voi ok state qua perfetto eh lo so lo so lo so qua continuano a arrivarci i rompiballe quindi eventualmente eh prendiamo quest'altra e io farei anche qualche eh avamposto diciamo difensivo anche più di uno in realtà così almeno da difenderci un attimino tanto arcieri ne abbiamo quindi ne mettiamo ne mettiamo almeno tre perfetto vai vai continua a produrre arcieri con arco lungo che così siamo a posto e va bene va bene così allora eh lanciere vai a costruire questo allora legna adesso ne abbiamo 660 quindi possiamo fare un altro ariete qua sotto benissimo e eh ne possiamo fare uno qua no ho sbagliato allora fammene uno qua grazie ok e ne possiamo fare anche un altro eh qua ok fai breccia nelle mura perfetto quindi io adesso questi li posso mettere qua dentro ne posso mettere fino a 16 addirittura ok perfetto allora tu vai qua e tu vai qua vediamo un attimo se riusciamo a far breccia nelle mura allora quindi adesso eh i tre arieti direi di mandarli qua vai andate a far breccia nelle mura vediamo un po' se ce la facciamo qua partono ovviamente i tizi ok ma non interessa far breccia nelle mura fate breccia dai però forse coraggio oh cacchio arrivano questi eh arcieri arcieri qua 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 veloci 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 porcaccia boia ok eh sì le mura le stiamo facendo ma ok qua mi stanno sfondando gli arieti adesso arrivano i nostri arcieri speriamo che li secchino perché mi stanno distruggendo tutti gli arieti maledetti infami carogne che maledetti infami carogne eh voi venite anche voi qua forse veloci ok dai 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 ok basta 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 perfetto abbiamo fatto breccia nelle mura ottimo ottimo benissimo benissimo dai tiratemi a questi vai spacca anche la torre qua potete spaccarmi questo? ok spaccatemi sta torre qua che mi tira le frecce ma ha rotto le balle dai 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 ok adesso attenzione a questi attenzione a questi vai 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 attaccate tutti i arcieri forza e coraggio forza e coraggio dai voi due qua nella mischia dai nella mischia forza forza nella mischia ok buona dai tiratemi giù sta cacchio di torre dai forza ok seccatemi questi benissimo benissimo facciamo subito altre arcieri a nastro perché qua mi sa che avremo bisogno di una quantità di arcieri esagerata ok sconfiggi sconfiggi i difensori di Bayeux ok qua me l'hanno tirata giù la torre perfetto tirami giù questa ottimo e andate a tirare a questi assolutamente quindi vai di arcieri vai di arcieri forza e coraggio eh tiratemi a questi qua per cortesia che da sopra ci stanno rompendo i ball ok vai tiratemi a questi però io non ho purtroppo fanteria eh però è che non ho veramente fanteria ok ammazza gli areti stanno facendo un danno devastante gli areti ragazzi stanno facendo un danno devastante veramente devastante ok vai arcieri andiamo arcieri andiamo andiamo devo andare al centro di Bayeux ok occhio tirate a questi sì il casino è riuscire a diciamo a portarli fino a qua questi cosa sono arcieri arcolungo oh dai veloci veloci voi forza e coraggio tutti qua dai forza e coraggio tutti qua dai però è proprio anche non ho niente per fare fanteria mannaggia eh quello lì è un po' il problema purtroppo il problema è un po' quello lì però va bene ok non so l'ora cosa stanno tirando ma fa niente fa niente allora oh là perfetto quindi abbiamo tutti nel gruppo 1 ok sono 85 perfetto quindi direi di andare di qua ok lanceri venite qua occhio 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 tirate questi tirate tirate dai 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 lanceri lanceri attaccate loro ok andiamo avanti i lanceri che attacchino questi il problema sono i lanceri che ne ho veramente pochi quindi è un po' un casino ok ok lanceri venite qua ok benissimo allora andiamo ad attaccare questi dai arceri andiamo avanti dai 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 forze coraggio dai forze coraggio che li stiamo massacrando li ho li ho gli arieti forza andate ad attaccare questo ok arceri tiratevi via perché vi stanno a massacrare dei frecce ok mandiamo gli arieti a distruggere quei cosi lì così almeno siamo a posto allora arceri voi unitevi a loro perfetto mentre gli arieti mi vanno a distruggere sta cosa sperando che ce la facciano perché sono un po' incasinati sono un po' incasinati qua non lo so se ce la fanno ok un è andato di ariete un ariete è andato non so se riesco a costruirne altri in realtà ci provo ragazzi ah no fermi fermi io lo posso costruire l'ariete che scemo aspetta io li posso comunque costruire ah ok vai 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 costruitelo costruitelo ah no ok io li posso comunque fare gli arieti va bene ok non l'avevo capito li posso fare anche con gli arcieri gli arieti io non lo sapevo ok non lo sapevo minimamente minimamente proprio bene bene meglio così meglio così almeno li facciamo voi andate qua ok gruppo 1 perfetto vai costruite sto coso perfetto costruite questo ok dai dai costruite costruite perché anche gli arcieri possono stare dentro gli arieti ok non lo sapevo pensavo solo la solo i lanceri non pensavo che gli arcieri potessero stare dentro gli arieti invece sì e qua dobbiamo andare giù di arieti pesanti proprio ma proprio pesantissimi ok perfetto facciamo l'ultimo dai dai veloci che facciamo l'ultimo ariete forza e coraggio oh perfetto intanto questi stanno devastando tutto questi arieti ok va benissimo va benissimo allora ok quindi prendiamo l'ariete e lo mandiamo qua ok altri arcieri voi però dovete costruire sta roba ok occhio occhio aspetta tirate a questi ok tirate a questi perfetto sì ma non con l'ariete ci deve andare tu ariete ma sei rincoglionito sei vai a distruggere sto coso anche tu vai a distruggere sto coso ok ok finiti di costruire questo cortesemente grazie benissimo poi prendiamo altri e li portiamo qua ovviamente ariete è fatto perfetto vami a distruggere questo intanto ok oh boh così tiriamo via sti cosi che stanno a fan casino perfetto perfetto ok e dobbiamo fare una quantità di ariete esagerati proprio ok dai che questo l'hanno distrutto perfetto perfetto ok vai andate a spaccare questo e vabbè uno me l'hanno distrutto ancora ma non è un problema io faccio costruire altri ariete pianastro proprio ok dai dai mettetevi qua mettetevi qua costruite anche voi perfetto dai che stanno spaccando giusto coso che tira una quantità di frecce esagerata occhio occhio e tirate a sti rimbambiti qua ok boh dai 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 seccate di forza ok buona ma qua gli stiamo distruggendo tutto con una cattiveria impressionante ok uno me l'hanno spaccato eh qua ci sono degli arcieri no no andatevene via andatevene via 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 scappate arcieri scappate porca miseria ok no 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 facciamoli scappare facciamoli assolutamente scappare ariete vai qua attaccarmi questo ok vai attaccate questi perfetto perfetto dai ariete muoviti vai a dare una mano a questo dai questo lo stiamo distruggendo ok questo ormai è andato perfetto perfetto benissimo benissimo dai ce la stiamo facendo ragazzi eh ce la stiamo assolutamente facendo quindi riuniamo un attimino tutti gli arcieri perché sennò qua stanno a fan casino ok buona dai questa qua ok mi ha distrutto un altro ariete ma comunque oh finalmente questo è andato alleluia allora andiamo con la rete qua a sfondare questa occhio occhio che arriva da dietro occhio ragazzi occhio dai dai attaccateli attaccateli ok eh perfetto allora qua c'è la cattedrale diciamo bene eh però adesso arrivano ok devo andare a dar copertura assolutamente alla rete quindi va bene dai andiamo tutti veloci 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 distruggi le costruzioni di bayou ok dai 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 porca miseria ok li stanno seccando perfetto dai 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 benissimo benissimo vai ok così intanto questo va avanti a distruggere sto coso ok vai vai spacca spacca benissimo allora prendiamo un altro gruppo gli facciamo costruire anche un altro ariete intanto perché abbiamo capito che serve e con questi qua occhio occhio sfondiamo questi che ci attaccano dai 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 perfetto meno male che arrivano gruppetti piccoli ragazzi meno male che arrivano gruppetti piccoli in modo che in modo che non abbiamo grossi problemi diciamo così a difenderci per fortuna vabbè lì ci sono due arcieri per adesso li lasciamo bella lì mazza che botta mazza che botta ragazzi che botta occhio occhio che arrivano quelli occhio occhio via via sfondateli ma non con l'ariete che va attaccareli con l'ariete porca miseria dammi questi facciamo questi per la cavalleria vabbè l'ariete ok ce lo siamo giocati fa niente ne farò un altro arcieri dai ok la riete non so se lo salviamo si si è riuscito a salvarlo ok ariete vammi un attimo di là ok ma penso che gli vada bene anche distruggere le case occhio dietro occhio dietro che arrivano occhio 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 perfetto perfetto ok dai dai benissimo abbiamo sconfitto i difensori di Bayeux perfetto e penso che demoliamo le ultime costruzioni abbiamo completato anche questo obiettivo mamma mia ragazzi che mega battaglia li abbiamo sventrati li abbiamo veramente veramente sventrati eh sì ok ma Enrico non si sarebbe fermato finché tutta la Normandia non fosse tornata nelle sue mani eh sì eh sì perfetto e abbiamo vinto anche questa eh questa missione veramente bella veramente mi è piaciuta molto il fatto mi piace tantissimo il fatto di conquistare per l'appunto un villaggio eh di conseguenza andare poi a costruirci le armi d'assedio le truppe queste cose qua e poi andare ovviamente ovviamente a ehm diciamo condurre per l'appunto l'attacco eh quindi ragazzi io direi che posso ehm concludere qua questo nuovo video dedicato a Age of Empires 4 eh con la caduta di Bayeux mi raccomando fatemi sapere se volete che la serie continua a questo punto si trasformerà diciamo così in una serie ufficiale dove cercheremo di eh ovviamente fare tutta la campagna eh dall'inizio alla fine eh sia in video e come dicevo prima sia in live quindi mi raccomando se è così lasciate un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivete al canale se non siete iscritti iscrivete anche al mio canale Twitch lo trovate sotto in descrizione per non perdervi nessuna delle mie prossime live detto questo vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo gameplay ciao belli